E' desolante lo scenario che si presenta il giorno dopo l'incendio nel palazzo di Via Lazio di Monte Silvano. Queste sono le immagini di Diego Martelli. Il rogo si è verificato in una piazzola al primo piano del Civico 61. L'allarme è scattato intorno alle 22. Sul posto per noi c'era Luca Pompei. Sono accorsi diversi mezzi dei vigili del fuoco di Pescara e dei volontari del distaccamento di Monte Silvano per circoscrivere e domare le fiamme. Ad andare a fuoco rifiuti di ogni genere accatastati nello stabile. In quota parte precisa l'assessore Isabella Del Trecco del comune di Pescara. Stabile più volte al centro di altri episodi di degrado che hanno reso invivibile la zona. In strada anche i condomini, delle palazzine adiacenti. Nel rogo non sono rimaste fortunatamente coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monte Silvano. Il giorno dopo, eccola, la desolazione è ancora tangibile. Rifiuti bruciati in ogni dove, immondizia, topi, la terra di nessuno. Eppure in quella terra ci abitano, ma ora sia il comune di Pescara che quello di Monte Silvano adottano la linea dura contro gli abusivi. Abbiamo certamente subito saputo quello che è accaduto, l'ennesimo episodio purtroppo, che si è verificato questa volta al primo piano una ex piscina di proprietà privata. Questa però è la ragione per la quale l'amministrazione comunale sin dall'inizio si è messa al lavoro per dare risposta alle famiglie a 20 titolo, dando loro un'altra casa sicuramente più dignitosa e decorosa e svuotare quell'immobile. C'è un'ordinanza da parte del comune di Monte Silvano in corso che a giorni ci vedrà tutti i protagonisti per uno sgombero, uno svuotamento complessivo. Per la quota del comune di Pescara l'amministrazione metterà subito in vendita con un bando la propria proprietà. Una sessantina gli appartamenti in totale nel palazzo, circa 20 le famiglie che hanno occupato abusivamente gli alloggi e che saranno allontanate. Allora ci sono 60 appartamenti, uno di proprietà privata, i restanti sono di proprietà comunale del comune di Pescara e la maggior parte sono murati perché tutti coloro a cui noi abbiamo dato con diritto una nuova casa via via con la riconsegna delle chiavi abbiamo provveduto a murare completamente tutto cosa che faremo una volta provveduto allo svuotamento cercando di mettere in condizioni quella palazzina, di non essere occupata speriamo fino alla vendita definitiva dell'immobile. Insomma dopo anni di degrado e incuria e abbandono l'assessore assicura che nel giro di pochi giorni si agirà per ridare dignità a tutta la zona. I tempi sono brevi perché è questione veramente di giorni l'intervento che sarà effettuato e che chiaramente in questo ringrazio le forze dell'ordine che ci sono sempre vicine però attendiamo un'organizzazione da parte loro anche la data precisa non l'abbiamo ancora abbiamo dato però disposizione notificato a tutti coloro che lì non hanno diritto ad essere che entro il 25 giugno provvedono a togliere tutte le masserizie.